Fra storia e memoria, itinerari culturali sostenibili nel Parco Nazionale della Maiella. Questo è il nome del progetto che persegue l'obiettivo di valorizzare gli storici itinerari che risalivano dalla Valle del Pescara, il versante nord della Maiella, di cui restano varie testimonianze archeologiche e storico-architettoniche nel territorio dei comuni di Tocco da Casaurio, Bolognano, Caravanico Terme, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Rocca Morice per proseguire verso Santa Eufemia ai piedi della Maiella. Le innumerevoli peculiarità storico-architettoniche esistenti costituiranno gli elementi nodali di una rete integrata in cui i siti archeologici assurgeranno a vere e proprie polarità di sistema. L'idea è quella di insediare un ecomuseo all'interno del Parco Nazionale della Maiella con una green community in un'area protetta nazionale. Se ne è parlato in regione a Pescara con i sindaci dei paesi interessati. Inizialmente era stata fatta una richiesta di 4 milioni di euro, ce ne hanno finanziato 2 e 3, però ci permette di iniziare questo rapporto di collaborazione per sinergia territoriale all'interno del Parco Magliella per i valori storici, ambientali e paesaggistici. Dovremo continuare nel nostro lavoro di messa a sistema delle ricchezze e implementare il progetto nel tempo più veloce possibile, anche perché noi riteniamo che ci possano essere passaggi successivi per completare tutta la progettazione. Ricadute a livello turistico potrebbero essere importanti per il territorio? Come dice il nome del progetto, Ecomuseo riesce a coniugare gli aspetti ambientali, ecologici del progetto con quelli archeologici, culturali del territorio. Valorizzare questi aspetti permette di aggiungere modalità di fruizione del turismo che per il mio paese è sicuramente importante nella diversificazione dell'offerta turistica e questo progetto sicuramente va ad aggiungere un tassello che mancava, cioè quello di valorizzare tanti aspetti storici, archeologici, culturali che pur presenti nel territorio sono poco conosciuti e anche poco fruibili. L'obiettivo principale del progetto è l'unione di questi comuni e di risviluppare quest'area di rendere ancora più una macro-area. Noi e Bolognano, che siamo dei comuni di confine tra l'area Casorenzi e l'area della comunità montana, abbiamo una responsabilità molto grande e cercheremo di portarla a termine nel miglior modo possibile.